Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale di Fiumicino è stata approvata la mozione di Demos, Democrazia Solidale, che chiede di redigere il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Negli edifici pubblici, negli spazi urbani sono presenti ostacoli che impediscono la libertà di movimento alle persone con disabilità motoria e sensoriale, si legge nella nota del movimento, ed è evidente la necessità dell'adozione dei PEBA come strumento di pianificazione urbanistica dagli enti locali per individuare le varie barriere preesistenti nel territorio e programmare quindi una serie di interventi per la loro eliminazione nel corso degli anni. Il Comune di Fiumicino porrà in essere tutte le attività preliminari e propedeutiche all'adozione del piano, grazie al quale verrà stilato un elenco dei lavori da effettuare con la relativa stima economica, concludono i rappresentanti di Demos.